Nessuna nuova vita per questo trampolino olimpico canadese. Trent'anni dopo le Olimpiadi 1988, quelle di Alberto Tomba, la popolazione di Calgary in Canada ha detto di no ai giochi invernali del 2026. Nel referendum il no l'ha spuntata con il 56,4% dei voti. Tanto di guadagnato per la candidatura italiana di Milano e Cortina che resta in lizza contro Stoccolma. Penso che sia un buon messaggio da inviare al Comitato Olimpico per mettere ordine in casa sua, perché nessuno più li vuole. Gli artefici del SIA Calgary hanno ottenuto il 43,6% dei voti, nonostante una campagna molto attiva da parte del Comitato e la mobilitazione dello stesso sindaco di Calgary, Nahim Nemshi. Spetterà ora il Consiglio Comunale decidere all'inizio della prossima settimana, ma non ci sono ormai più dubbi sull'abbandono della candidatura. Sembra un'epidemia di no quella alle Olimpiadi. Boston, Budapest, Roma, Hamburgo hanno annullato la loro candidatura per le Olimpiadi 2024. Per i giochi invernali del 2022 abbandono di Oslo, Stoccolma, Leopoli e Cracovia. Per il 2026 addio di Sapporo, Sion, Graz e ora Calgary. Milano e Cortina ci credono ancora. Appuntamento per giugno 2019 a Losanna per la scelta definitiva.